Cari ascoltatori, bentornati a Radio Pugginio Nerd dove vi portiamo le ultime news e gli approfondimenti più intriganti su ciò che accade nel mondo che ci circonda. Oggi ci concentriamo per il momento su una storia che ha catturato l'attenzione di molti, la presunta crisi matrimoniale tra Chiara, Ferragni e Fedez. Siamo qui proprio per domandarci se c'è questa crisi, se è un'invenzione della stampa oppure se davvero c'è una crisi che li porterà prossimamente probabilmente a un divorzio e se è vero che vivono non in casa da separati, anzi in due case separate. Bene, lo approfondiamo oggi a Radio Pugginio Nerd, voglio sapere cosa ne pensate voi nei commenti di quello di cui stiamo parlando. Dopo lo scandalo che tutti sappiamo del Pandoro, ne abbiamo parlato a lungo in altre puntate, i Ferragniets, come sono affettuosamente conosciuti, sembrano attraversare un periodo di profonda crisi. Stando a quanto riportato da Dagospia, la coppia vive separata, addirittura in case distinte, condividendo solamente la compagnia dei loro figli, Leone e Vittoria. Questa situazione sembra essere stata innescata dal Pandoro Gate che ha scosso la vita dell'imprenditrice digitale e probabilmente anche della coppia. Recentemente Pedez si è recato a Miami senza la sua famiglia, mentre Chiara continua a trascorrere momenti di svago con parenti ed amici, ma raramente in compagnia del marito. Secondo i rumor, comunque Pedez avrebbe confidato agli amici di aver chiesto più tempo a Chiara per valutare se la crisi possa essere superata o se sia meglio seguire strade separate. Questa non è la prima volta che la coppia attraversa un periodo difficile. Lo scorso anno, dopo il festival di Sanremo e il controverso bacio di Rosa Chemical al rapper, si erano verificati episodi simili. Tuttavia la situazione attuale sembra essere più grave, con Chiara e Pedez che vivono in case separate e sembrano discutere di una possibile separazione. Ripeto, secondo Dago Spia, la crisi tra Chiara, Ferragni e Fedez è molto profonda e potrebbe portare al divorzio. La causa principale di questa crisi sembra essere legata allo scandalo del Pandoro Balocco e anche altre cose che sono uscite fuori. Non so se ci sono delle inchieste, comunque sia, hanno danneggiato abbastanza la reputazione di Chiara Ferragni che ha avuto anche ripercussioni sull'attività commerciale di Fedez. Il rapper avrebbe accusato sua moglie di non aver gestito con lucidità la tempesta mediatica e di aver causato danni irreparabili alla loro immagine pubblica. Dunque la situazione sembra così tesa che Fedez si trova attualmente a Miami, separato dalla sua famiglia, mentre Chiara trascorre del tempo con i suoi cari Liguria. Le comunicazioni tra i due sono ridotte al minimo, limitate alla gestione dei figli Leone e Vittoria. Nonostante ciò sembra che Fedez non sia ancora pronto a chiedere la separazione, preferendo prendersi del tempo per riflettere sulla situazione. Sarà vero, ripeto, questo lo dice D'Agospia, lo rilanciano molti giornali, ma bisogna vedere poi qual è la verità. La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere stata alimentata anche da una presunta incompatibilità tra i coniugi. Fedez avrebbe voluto rilasciare un'intervista per tentare di risolvere la situazione, ma il suo entourage gli avrebbe consigliato di mantenere il silenzio per evitare ulteriori polemiche. In conclusione, la situazione tra Chiara Ferragni e Fedez è delicata e complessa e noi abbiamo tutto il rispetto, non vogliamo assolutamente speculare sulla loro famiglia, ma naturalmente parliamo di una notizia che sta girando, per cui come fai a non parlarne? Però, ripeto, sono tutte presunzioni, nel senso che la verità poi non la sappiamo, l'ho detto sin dall'inizio, a differenza di chi ci marcia sopra, l'ho detto sin dall'inizio, sarà vero secondo voi, cosa ne pensate? Vi sto portando le notizie che ho letto in altri giornali. Quindi, mentre i due Fedez e Chiara Ferragni probabilmente cercano di capire se la relazione possa essere salvata, oppure se non è così ma stanno semplicemente separati per altri motivi per cui ci stanno speculando sopra i giornali, non lo sappiamo, noi rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi su questa vicenda che continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso, naturalmente, soprattutto i loro fan, il pubblico dei Ferragniac. Restate sintonizzati qui su Radio Pugginionaire per gli aggiornamenti su questa storia in evoluzione e su tutti gli altri temi, storie, inchieste e singoli album in uscita per la musica. A proposito, vi invito ad ascoltare la mia musica, anche ad iscrivervi al mio canale YouTube Marco Puggini per seguire anche i miei nuovi singoli in uscita, oltre che le nuove puntate di Radio Puggini On Air. Alla prossima!